Sfogliamo insieme carta modelli di giugno. Devo dire che questo numero è davvero davvero bellissimo, mi piace tantissimo e assaporiamo già qui la primavera e la bella stagione. Questo numero ci propone dei modelli sofisticati però adattabili sia alle grandi occasioni che indossati nella quotidianità regalandoci eleganza senza tempo. Veramente belli, belli colori, naturali, tenui. Iniziamo subito con un blazer senza tempo, adattabile ad ogni occasione. Qui viene proposto in questo fresco di lana con un taglio maschile, il bottone qui davanti, le due tasche e il taschino laterale. Viene proposto in questo tessuto, altrimenti ci viene proposto anche in un tessuto bielastico, in lino, in saten di cotone o gabardin. Bellissimo questo capo, adoro, adoro il colore, mi piace tantissimo il modello con questo scollo all'americana tenuto chiuso dal nastro, aperto qui sulla schiena, arricciato in vita, bello il collo, spacco nella gonna, oltretutto è una cucitura facile quindi semplice da realizzare. Altrettanto belli questi, mi piace molto questo, penso che lo realizzerò. È un abito in saten di cotone senza spalline aderente con spacco laterale e questo incrocio originale, anzi una piega più che un incrocio. Molto carino anche questo completo, la gonna con volanti in popline stretch, un taglio diritto e corta e asimmetrica con un drappeggio. Da abbinare a un top cucitura facile con spalline imbottite e un'apertura al girocollo e delle pieghe qui su davanti. Molto carino l'abbinamento. Belli anche questi pantaloni color malva in cotone oxford, un taglio ampio, hanno lo spacco qui davanti che lo rendono particolare. Da abbinare in una camicia in crepe surgette sfumato dal taglio ampio e la bottonatura è nascosta, ci sono delle applicazioni di fiori. Molto carina anche questa camicia in voile plumetis con la scollatura a V, le maniche arricciate, i polsini in fondo. Da abbinare qui con un pantalone nero classico con le tasche sagomate inserite nelle cuciture, qui è in cotone stretch. Il cinturino ha l'elastico dietro. Bellissimo anche questo capo, devo dire uno più bello dell'altro. Chiaro magari per una serata e questo è in raso con questa profonda scollatura a V, le maniche a pipistrello con il polsino in fondo. Il taglio è in vita, qui alto e con delle arricciature qui sul fondo. Molto bello, è aperto anche sul dietro, audace però penso che ti potresti sentire davvero una principessa. Abbiamo quindi la sezione safari, capi senza tempo, eleganti, raffinati, mi piace questo colore tantissimo. Bella quindi questa giacca sa ariana, in chantunghi lino e cotone, ha le tasche e le maniche con le pieghe baciate e la cintura qui decorativa. Abbinata qui a una gonna dalla cucitura facile, ha in viscosa satinata, ha il sormonto in diagonale e allacciata con cinturino, con asole e bottoni. Qui invece troviamo un abito chemisier in linea o dalla linea diritta, le spalle scese, le tasche sono a listino verticali, gli spacchi laterali e il collo è da camicia, molto carina. Bellissima anche questa camicia, mi piace molto, in saten, con queste maniche a kimono che sono raccolte mediante una fascetta e la tasca è applicata con soffietto e il collo è a listino. Molto carina, abbinata qui a dei pantaloni, le necopelle con occhielli, si possono realizzare anche con un altro tessuto senza fare gli occhielli e sono molto carini, versatili per l'estate che sta per arrivare, il cinturino ha i passanti e cedri svolto in fondo. Anche questo vestito è curioso, mi piace, ha queste aperture nelle maniche nella parte bassa, questo è in gabardin satinato, il taglio è in vita, le maniche sono giapponesi quindi larghe e con queste aperture i polsini ad anello, la chiusura è dietro, è molto particolare. Abbiamo quindi una sezione di primavera con degli abiti più classici, qui quindi troviamo un abito a righe in gualli di cotone con un pizzo qua nel mezzo tra la vita e la gonna, ci sono il volant qui di pizzo nelle manichette, molto carino, da abbinare ad un blazer classico in mistolino cotone, il collo reverle, le tasche a filetto e la chiusura mediante i due automatici. Belli anche questi pantaloni originali, sono in crepe di cotone a sigaretta, con questa originale chiusura in vita con sormonto e laccio. Qui invece troviamo appunto dei pantaloni in cotone grezzo, lunghezza pinocchietto, molto originali, in fondo sono asimmetrici, hanno una chiusura con l'elastico e questo cinturino da annotare in vita. Bello anche questo top romantico, un po' plein di cotone con girocollo, il volante di merletti sugli scalfi e il pizzo di tramezzo qui sulle cuciture e sul cinturino. Bello anche questo abbinamento per una ragazza appunto giovane ma anche per una donna più adulta, un pantalone ampio in viscosa, le tasche interne nelle cuciture laterali, il cinturino all'elastico dietro, le gambe sono ampie. Abbinate qui con una blusa dalle spalle scoperte, dove la vita viene segnata da questa cintura, le maniche sono a sbuffo, è molto molto carina ad abbinare in questo caso a un giubbino in jeans, in denim di cotone con la lampo sul davanti, le tasche applicate con la patta, il coloro coreana. Nella sezione della moda firmata troviamo quattro proposte molto carine, qui basandoci sulla sfilata di Blue Marine abbiamo questo accostamento tra rosa e azzurro, la camicia in organza stampata con caree piega dietro, la manica è lunga con il polsino e il collo da camicia. Abbinati ad un pantalone in lino con le due tasche sagomate inserite nelle cuciture dei fianchi e le pence dietro, il cinturino è il diritto con i passanti, un classico. Speciale questa tuta stile urban in gabardin satinato leggero al carré dietro, c'è questa lunga zip qui sul davanti, ci sono i passanti con il cinturino, queste due tasche, il pantalone non è lungo, si può fare anche più lungo qualora uno lo desiderasse, questo è stato ispirato dalla sfilata di Ferretti, mi piace molto. Che dire poi del trench con le maniche raglan in questo tessuto, è un classico, io ce l'ho, è bellissimo, ce l'ho blu, ce l'ho beige, ce l'ho nero, ce l'ho di tanti colori, le tasche sono a listino, le maniche appunto raglan, ci sono i passanti, la cucitura dietro e lo spacco col sormonto, molto carino. Belli anche questi bermuda beige, ideali per l'estate, classici, eleganti comunque, con questo cinturino da nodare in vita, ci sono due pence. da abbinare in questo caso a una camicia di cotone con le tasche applicate, le maniche con polsini e il collo da camicia con listino. Nella sezione delle taglie forti troviamo delle proposte veramente speciali, mi piace molto questo abito con tessuto plissè, la cucitura è facile, ha queste pieghe a collo a barchetta con la culisse, il taglio in vita e poi questa gonna ampia, si può realizzare anche con eventualmente un altro tessuto non plissettato pur che morbido. Da abbinare a questa giacca leggera, cucitura facile, si vede già qui che è molto semplice, il taglio, pochissime cuciture, senza bottone, senza chiusura, in viscosa, il taglio diritto, le maniche a due pezzi e il carri dietro, molto bello. Che dire di questi pantaloni? Li adoro, pantaloni con tessuto plissettato ma eventualmente si possono realizzare anche con un altro tessuto, sono dei pantaloni palazzo, larghi, le gambe ampie, cinturino diritto e chiusura con la lampo, bellissimi, abbinati a un top simile a quello precedente che ha questa arricciatura sul davanti, inserito dentro, le maniche sono appunto tagliate, il bottone è dietro, molto molto belli. Abbiamo quindi la sezione per i bambini, carinissime queste proposte estive, quindi abbiamo la blusa bianca per lei, in battista di cotone con il carré e le arricciature, qua le taglie sono 2, 4, 6 anni, da abbinare a questi bermuda in lino grezzo, le tasche applicate davanti e dietro. Qui troviamo una camicia a righe per i maschietti, in tuilerighe e con le tasche con le patte sfilacciate, le spalle leggermente scese, da abbinare a questa salopette in jersey di cotone, con le tasche e le bretelle in twill di cotone, anche qui la fascia d'età è 2, 4, 6 anni. Troviamo qui un abbinamento comodo con i pantaloni con i tasconi, un drill di cotone con queste grandi tasche laterali e il cinturino con elastico e i passanti, da abbinare a una camicia comoda e sportiva con il cappuccio, dalla linea diritta le maniche con i pulsini e il fondo sagomato. Troviamo qua dei consigli su come adattare i cartamodelli a seconda delle varie taglie, sempre molto utili, quindi troviamo tutti i nostri cartamodelli, indicazioni su come affrontare i cartamodelli, le istruzioni e poi tutti i cartamodelli. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo sapere, a me è piaciuto tantissimo, dimmi qual è il tuo capo preferito e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!